Dopo le rassicurazioni sul livello di qualità del nuovo ospedale pesarese di Muraglia esternate da Francesco Acquaroli in occasione del Consiglio Comunale monotematico sulla sanità, ora l'attenzione si sposta sulle tempistiche e sui trasferimenti. Alla prima voce Acquaroli ha lasciato intendere che ci vorrà qualche altra settimana per definire una bozza di tabella di marcia che si baserà sull'accordo di programma tra Regione, Comune, Asur e azienda ospedaliera Marche Nord, ma intanto una data già c'è. È quella del 30 settembre 2024 entro la quale si deve avere l'area di Muraglia libera da interferenze di reparti attivi e con un progetto esecutivo dopo il completamento delle gare d'appalto. Due anni per la prima pietra, probabilmente meno. Quanto ai trasferimenti dei servizi ha già fatto discutere l'ipotesi di trasferimento definitivo di psichiatria da Muraglia a Fano, così come quella delle comunità protette da 40 posti letto a Monbaroccio in una struttura ancora da realizzare. Quale? L'intenzione è quella di una casa della salute già finanziata con 3 milioni e 600 mila euro che ospiterebbe anche una nuova residenza sanitaria assistenziale conseguente a un presumibile abbattimento della RSA Bricciotti. Il luogo di realizzazione potrebbe essere alle porte di Villa Grande, non lontano dal campo sportivo in un'area già ispezionata da un sopralluogo fra comune e regione. Il consiglio comunale monotematico di Pesaro ha guardato al futuro ma intanto intende dare un'ultima sottolineatura al passato recente con una imminente benemerenza all'ex primario del pronto soccorso Umberto Gnudi che è già stata oggetto di dibattito politico. Una benemerenza al dottor Gnudi, a lui e a tutto il personale del pronto soccorso perché sono stati per mesi in prima linea sotto pressione con grande difficoltà e tutti hanno risposto con grande professionalità e anche grande umanità. Io credo che la vicenda di Gnudi sia stata gestita molto male. È evidente che aveva detto delle parole sopra le righe, ma è anche evidente che chi dirige un'azienda ospedaliera come chi dirige un comune deve riuscire ad interpretare quelle parole nel contesto psicologico che vengono dette, sotto la pressione nella quale queste parole vengono espresse.